Grave incidente questa notte, domenica 13 maggio, poco dopo l'una, sulla strada provinciale 565 Pedamontana, nei pressi del distributore di benzina Castellamonte. Un 25enne di rivarolo canavese, proveniente da Ivrea, ha perso il controllo della vettura che stava guidando, un Audi S3, che ha invaso la Juola che delimita l'area di rifornimento, sollevando due grossi macini, uno dei quali è finito incastrato sotto una lancia Y, ferma a far benzina, e ha terminato la sua corsa ribaltata sulla carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Castellamonte e Ivrea e la croce rossa di Castellamonte. Il giovane è stato strato della miera e dell'auto, e subito a soccorso è stato trasportato all'ospedale di Cornier, e da lì con l'elizzo corso a Torino. Le sue condizioni sono gravi. Oltre al violento impatto, un grosso quantitativo di benzina gli è finito sul volto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura prima di poterla rimuovere. La dinamica è il valio dei carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea. La dinamica è il valio dei carabinieri del nucleo radiomobile di Milano.